Tracce di Covid sono state rinvenute sulla superficie di un posto in un supermercato della provincia di Salerno. La campagna di verifiche, disposta a livello nazionale, è stata effettuata dai carabinieri del NAS nel complesso. Gli militari hanno controllato 981 attività al fine di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione. Per limitare il contagio da Covid nel Salernitano è scattata la sanzione amministrativa per un supermercato nel quale sono state rinvenute tracce di RNA del Covid sulla superficie di un dispositivo di pagamento, negativi gli altri 20 tamponi effettuati in quella stessa struttura dall'Istituto Zooprofilattico. Altri tre supermercati invece sono stati sanzionati per l'assenza di gel igienizzanti e della cartellonistica informativa. Intanto nel Salernitano il Covid inizia gradualmente a frenare la sua corsa nelle ultime ore. Sono emersi 241 positivi, ma hanno perso la vita altre quattro persone. Di pari passo prosegue la campagna vaccinale. A Ponte Cagnano-Faiano negli ultimi giorni si sono registrati numeri da record. Ormai siamo a quasi 5.000 vaccini tra prime e seconde dosi. Un numero, ripeto, importantissimo per un comune come questo che non ha ovviamente ospedali. Questo grazie a questo hub, a questo polo vaccinale che abbiamo costituito immediatamente a partire dal 10 aprile che ci consente oggi di accelerare e di andare spinti verso una vaccinazione di massa.